Non è l'unica guerra, io vorrei fare giustizia. Da 12-13 anni che la Siria è in guerra, da più di 10 anni che lo Yemen è in guerra. Pensa al Myanmar, a povera gente Rohingya che gira il mondo, gira il mondo, perché sono state cacciate via dalla propria patria. Dappertutto, nell'America Latina, quanti focolai di guerra ci sono? Sì, ci sono guerre più importanti per il rumore che fanno, ma non so, tutto il mondo è in guerra. È in autodistruzione.